L'arte migliore la puoi trovare in natura, ti basta solo osservare attentamente. Qui ci sono dei bacilli essiccati dell'albero giungli Badam. Ogni baccello di per sé è un'opera d'arte. Abbiamo messo solo la nostra firma. Fai un piccolo cono e fissalo come fosse un becco per fare un bellissimo uccellino. Attacca il becco. Questo uccellino può beccare i semi facilmente. Ora fissa il becco all'estremità della coda per fare un uccellino diverso. Puoi incollare gli occhi. E colorare il becco. Puoi anche fare degli uccellini gemelli. Se incolli gli occhi e delle zanne puoi anche costruire Lord Ganesh. Puoi incolli gli occhi di polpa sufficiente. Puoi incolli gli occhi.